Siamo qui oggi per presentare la nuova gamba di fotocamere Kultex 2012 che sono caratterizzate da due nuove fotocamere della serie L, la serie L che sono la L25 e la L26 caratterizzate da gratt'angolo da 26-28mm rispettivamente da 10-16mm, poi andiamo sulla S2600 che è credito a tutte le caratteristiche già apprezzate della 3200, la macchina più ampia, abbiamo la S3300 con 26mm di espressione grand'angolare, un UR ottico integrato quindi all'interno della macchina. Abbiamo una novità che è la S30, l'autocamera adatta per essere utilizzata a strumenti più piccoli quindi facilmente impugnabile con le troppe le mani, resistente agli urti quindi anche l'acqua può essere utilizzata anche sul tappo fino a 3 metri di fotocamera. La S60003 è la nuova, le rede della S60002 con 10MP, un sensore cimossi e con l'escursione ottica da 10x, la risoluzione 16MP. Andiamo sulla serie Performance dove troviamo la P510 con 42x di escursione tocale, un zoom quindi con un grand'angolo da 24mm fino a un'estensione tele da 1000mm, un display da 3 pollici ad orientamento variabile, mirino elettronico e il GPS integrato. La P310 invece è quella che eredita tutte le caratteristiche già apprezzate dalla precedente P300 con in primo punto maggiore risoluzione, arriviamo quindi a 16 milioni di pixel su un sensore cimossi sempre filmati in full HD e una serie di tasti tipo il funzione con cui possiamo personalizzare e utilizzare la macchina potendo accedere al menu facilmente alle voci che abbiamo. Grazie a tutti.